ciao benvenuti fanciulli e fanciulle andiamo oggi a vedere le previsioni per la settimana dal 6 al 12 giugno 2022 vi ricordo che ho fatto gli oroscopi di tutti i segni zodiacali per il mese di giugno quindi andatevelo a vedere perché credo ne valga ne valga la pena farò tre stesse di carte quindi ti invito a scegliere un mazzo di tarocchi per la tua settimana ma te lo dico sempre non mi stancherò mai di dirlo butta uno sguardo anche agli altri due mazzetti perché sicuramente troverai qualcosa anche lì primo mazzo di carte avventurina verde secondo mazzo di tarocchi quarzo rosa terzo mazzo ametista andiamo a vedere cosa ci accadrà durante la settimana dal 6 al 12 giugno andiamo ok vediamo la settimana dell'avventurina verde la mettiamo qua come vedi qui usiamo due mazzi di carte entrambi creati da me come vedi dal timbro se ti interessa avere questi mazzi o insomma questi mazzi di carte puoi trovare tutte le informazioni giù nella descrizione del video qui sotto oppure puoi scrivere una mail e chiedere informazioni direttamente a me scrivendo a le carte di penelope chiocciola gmail.com e io ti dirò insomma quello che c'è da sapere partiamo dagli oracoli questi sono gli oracoli volume 1 poi esiste anche il volume 2 ok andiamo a vedere allora cosa accadrà durante la settimana dal 6 al 12 giugno a coloro che hanno scelto l'avventurina verde ok il mago prima carta cosa accadrà il raccolto c'è la bimba qui che raccoglie le ciliegie settimana 6 12 giugno per l'avventurina verde cosa accadrà a queste persone come trascorreranno la settimana ok notizie eccola la novità nel taglio del mazzo una novità e sembrerebbe molto bella toccherà senz'altro il nostro cuore qui c'è un cuore quindi senz'altro potrebbe trattarsi di non so di notizie affettive ora vedremo comunque però qui c'è un bellissimo cuore una novità che arriva guarda e faccia potrebbe essere la sua espressione quando riceverai quando riceverai queste notizie è proprio proprio così allora cosa mi dicono queste carte qui ti ha fatto qualcosa quindi senz'altro qui c'è stata già una semina ok una semina di un qualche tipo che sia la semina vera se tu sei un contadino una contadino a tuccia l'orno a parte gli scherzi no senza scherzi insomma può essere un raccolto vero ma qui qualcosa è già stato fatto qui ci siamo già mossi abbiamo già seminato ed è venuto sembrerebbe arrivato il momento di raccogliere un qualche cosa ecco perché arrivano le notizie quindi qui si può trattare di un qualcosa che abbiamo chiesto o abbiamo fatto domanda non so se mi sto spiegando per esempio se ti ha fatto domanda ti ha mandato un curriculum per trovare lavoro tutti si è mosso in tal senso è seminato in tal senso stai pur tranquillo o tranquilla che qui una risposta ti arriva io credo sia positiva visto questa bella novità qui e visto tutte le altre carte appresso quindi qui potrebbero chiederti un colloquio perché vedo le trattative se ci sono trattative se uno ti dice no non abbiamo bisogno che può trattare è giusto quindi qui ti potrebbe arrivare una risposta positiva o comunque come ti dicevo io una chance tu ce l'hai se si parla di lavoro ma si può trattare di tutto quello che ti pare per esempio se ti ha chiesto un finanziamento un mutuo capito se ti ha cercato lavoro se ti ha fatto un concorso di un qualche tipo se ti ha chiesto un favore a un amico insomma qui hai fatto qualcosa che cos'è tu lo sape meglio che te ecco qui hai mosso le acque hai mosso le acque e ti arriveranno notizie notizie positive nel senso qui c'è una novità positiva c'è un cuore potrebbero essere notizie anche affettive o comunque che toccheranno il nostro cuore va bene quindi aspettati una notizia importante importante per qualcosa che tu hai smosso precedentemente qui arrivi il raccolto va bene vediamo un attimo per l'avventurina verde poi vediamo i tarocchi è la settimana dell'avventurina verde vedi i am e dreamer quindi sono un sognatore una sognatrice ho il permesso i am lovable perfetto quindi qui mi confermano se ce ne fosse mai stato qui c'è un sogno qui c'è un qualcosa che te tu stai coltivando nel tuo cuore capito che tu hai pregato tanto che tu hai sperato tanto che tu hai investito tanto proprio anche come cuore vedi il cuore qui e ora tu vieni ripagata ho ripagato se tu sei uomo donna qui c'è un sogno che si realizza una speranza che viene come si dice un qualcosa che si avvera capito un qualcosa che si avvera ed è un qualcosa che tu hai molto a cuore qui c'è un qualcosa che hai molto a cuore ed è arrivato adesso il momento per te di raccogliere i frutti del tuo lavoro capito qui il cielo si vuole ricompensare mettiamo un po' di qua un po' di là ti vuole ricompensare in un certo qual modo guarda io qui vedo in modo molto evidente molto forte il segno dei pesci quindi non so se tu sei o l'altra persona altre persone non so ricordati il segno dei il segno dei pesci allora andiamo a vedere cosa accadrà durante la settimana a coloro che hanno scelto l'avventurina verde settimana dal 6 dal 6 al 12 giugno 2022 per tutte queste persone subito così il 6 di bastoni come prima carta la settimana 6 12 giugno per l'avventurina verde il 2 di spade il vedi guarda il 10 di bastoni per l'avventurina verde settimana dal 6 al 12 giugno la papessa guarda qui il 5 di coppe e il 9 di bastoni del taglio qui c'è un qualcosa che tu stai portando guarda l'asso di coppe guarda qui c'è un qualcosa che te tu sta portando avanti o che tu sta sperando da diverso tempo io vedo il segno dei pesci e del cancro non solo naturalmente però devono avere un significato in un qualche modo comunque non importa qui c'è una realizzazione una realizzazione che è costata tanta fatica sicuramente qui tu hai avuto delle delusioni senz'altro tu hai dovuto aspettare rimandare ci sono state sicuramente ci sono stati sicuramente degli intoppi o comunque dei dei ritardi qui fanno vedere vedi alte e bassi tanti sacrifici sicuramente qui c'è stato c'è un peso da portare però io qui vedo anche una realizzazione fammi vedere per l'avventurina verde esatto ma qui ci può essere stato un ritardo un inghippo un intoppo una rinuncia fatta o da fare anche per motivi proprio di denaro o comunque motivi pratici l'impossibilità pratica di proseguire però qui c'è un qualcosa che ti viene accordato io lo so che vuol dire tu lo saprate un successo lavorativo quindi sicuramente qui il lavoro sta andando bene i che c'è ti vedo tu ti fa un mazzo si qui ti vedo proprio darti da fare oltre ogni limiti ci sono delle responsabilità che tu ce la te sulle spalle capito avventurina verde delle responsabilità mica da ridere o comunque vedi, ho comunque delle responsabilità, degli obblighi che tu hai sulle spalle te. Però io guardo, avventurina verde, qui ci sono delle notizie che arrivano, delle notizie che arrivano, fammi vedere, voglio vedere. Potrebbe pure essere che tutto quello che ti sto dicendo, potrebbe, potrebbe pure essere che tutto quello che ti sto dicendo mi vada un pochino più in là. Tu mi dirai, ma io ho chiesto di questa settimana. Sì, magari durante la settimana ti arrivano le notizie. Poi, per esaudire tutto quello che ho visto, ci sta che vada un pochino più avanti, perché vedo di tardi il tempo che trascorre, però già durante la settimana tu dovresti quantomeno sapere qualcosa di più di questa cosa. Fammi sapere, più che altro, che cos'è per ognuno di voi si tratta di una cosa diversa. Vedi? Eccola là. Qui c'è un re di spade. Quindi qui c'è questo figuro, questo figuro che potrebbe essere sparito ogni nulla o comunque essere lui, capito, la persona o la questione che lui rappresenta che ha fatto slittare, che ha fatto ritardare tutto l'ambarata, capito? Però qui le notizie le arrivano bambine, quindi qui come minimo ti arrivano notizie durante questa settimana da questa persona, come minimo, capito? Se non si risolve tutto durante questa settimana, si risolve un pochino dopo perché mi fanno vedere qui anche carte di tempo, di tempo che passa, di tempo che trascorre, ok? Ok. Quindi ci può essere un attimo, un dovere rinunciare a qualcosa perché siamo oberati di lavoro, per esempio, o un qualcosa, ci sono le feste, dobbiamo rimandare. Insomma, ma sicuramente durante la settimana ci sono delle notizie che portano a un avanzamento, capito? E delle trattative. Quindi magari tu apri delle trattative, si apre un qualcosa, non so come è meglio dire, un qualcosa a cui tu tenevi, tieni molto, si riapre. Che poi si vada a risolvere tutto per il meglio, magari possiamo andare un pochino dopo, un pochino più tardi di questa settimana del 12 di giugno, per intendersi, capito? Perché mi fanno vedere un po' questo tempo che deve passare. Non so come è meglio dire, insomma, ecco. Però, avventurina, ecco. Vediamo ora gli altri mazzetti, eh? Andiamo. Vediamo la settimana del quarzo rosa. Andiamo a vedere. Partiamo dagli oracoli. Questo è un mazzo di carte, come vedi, che ho creato io. Se vuoi ricevere queste carte, questo mazzo, trovi le informazioni giù sotto, nella descrizione del video. Oppure puoi chiederle direttamente a me, scrivendomi a lecartedipenelopechiocciola.gmail.com Andiamo a vedere la settimana del quarzo rosa. Prima carta, non c'è male direi, felicità. Quindi potrebbe pure essere, visto questo arcobaleno con le nuvole qua dietro, potrebbe essere che qui sia effettivamente successo qualcosa, ci sia stato un pensiero, un problema, una preoccupazione, che sembrerebbe però allontanarsi. In altre parole, torna il sereno. Ma andiamo a vedere, andiamo per gradi. Per il quarzo rosa, dal 6 al 12 giugno. Dal 6 al 12 giugno, per il quarzo rosa. La paura, felicità e paura. Un bel mix di emozioni, eh. La chiarezza. E nel taglio c'è un progetto di un qualche tipo. Magari un progetto che tu devi, tu dovresti, avresti dovuto fare, magari pure insieme ad altre persone. Allora, ma qui è ovvio, qui c'è la paura. Qui è più chiare di così, che si ha paura dell'abbandono. Magari ti ha paura che qualcuno si tiri indietro. C'è un qualcosa che tu devi fare, che tu vorresti fare, ma è come si dice, capito? Temi un attimino, vedi? Qui per il quarzo rosa c'è la paura. Qui c'è la paura, paura di non farcela, la paura, come ti stavo dicendo, di un abbandono. Qui è come se tu fossi agitato, agitata, capito? In cor tuo, dentro di te, ci fosse una situazione che non tu vedi in modo troppo, 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 troppo chiaro. Qui c'è la chiarezza. Tu vorresti più chiarezza. Magari un qualcosa che tu devi fare e tu vorresti già sapere come l'andrà a finire. Ecco, capito? Potrebbe essere anche questo. Ora, qui c'è questa felicità. Per assurdo, non so se è per tutti voi, però per assurdo potrebbe pure essere che sia un momento così felice che ti ha paura, come dire, vai, ora qui qualcosa deve arrivare. Sto troppo bene. Ok, comunque, a parte tutto, è questa chiarezza che mi rincuora. Comunque, qui c'è un qualcosa che tu devi fare, che tu devi intraprendere, che tu devi iniziare e viandare che ti piacerebbe assai. Sai, io credo che tu la devi fare questa cosa insieme ad altre persone, o a cari amici, o a familiari, però c'è un qualcosa che non ti sconfinfera. Quindi, o sono proprio questi amici o familiari che, insomma, non sono molto chiari nelle loro intenzioni e quindi ti fanno entrare quantomeno un po' d'ansia. Capite che ti voglio dire? O tu sei proprio fecchè. Qui fanno vedere, insomma, una situazione un po' traballante, ma andiamo per gradi. Vediamo cos'altro ci dicono le carte, poi arriviamo ai tarocchi. Allora, la settimana per il quarzo rosa. Ops, cosa accadrà a queste persone? Quarzo rosa, dal 6 al 12 giugno 2022. Qui c'è un progetto di un qualche tipo, un qualcosa che tu devi fare che però ti spaventa. Qui c'è il sapere, il sapere che io ricollego a questa chiarezza. La chiarezza è il sapere. Quindi c'è un qualcosa di cui ancora non sai o che tu ti devi informare meglio, o capisci o che tu aspetto una risposta anche, capito? Posso vedere anche questo. Vedi? I am ready. Te tu sei pronto o pronta magari per affrontare questo qualcosa, però secondo me qui tu c'ha che fa con altre persone o quantomeno con, come si dice, con altre situazioni. Qui fanno vedere molto forte il segno del sagittario. Quindi se ti richiama qualcuno qualcosa, fammelo sapere. C'è proprio il segno del sagittario. Capito? Quarzo rosa. Quindi qui c'è un qualcosa. A te tu saresti pure pronto a fare. Però secondo me qui o che ancora tu aspetti un'informazione importante per procedere a questo qualcosa e ta' paura che la un'arrivi. Capisci? Vediamo. Quarzo rosa. Vedi? L'otto di coppe. Allora, per la settimana del quarzo rosa dal 6 al 12 giugno 2022 8 di coppe abbiamo detto imperatrice che è una carta molto 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 bella sia se tu sei uomo sia che tu sia donna vedi il 10 di denari il 2 di coppe e il 10 di coppe nel taglio il papa sono molto contenta perché qui tu risolvi meno male quando mi escono queste carte sono tutta felice ma guarda allora qui ci siamo o ci si sta allontanando da qualcosa da qualcosa da qualcuno qui c'è una situazione che guarda questo reddi hoppe qui c'è un uomo un mezzo ma il solito qui c'è una coppe imperatrice reddi hoppe eccola là ok quindi qui ci potrebbe essere un gemelli o comunque un segno d'acqua coinvolto e il sagittario abbiamo visto quindi quell'asse lì comunque non importa allora quarzo rosa qui durante la settimana fanno vedere sicuramente questa paura questa paura ma anche questo allontanarsi da qualche cosa quindi qui insomma io credo che tu ti stia allontanando da una situazione che tu ti sei reso conto un va più forse proprio da queste nuvole ti ricordi abbiamo detto qui forse ci sono state delle nuvole però ora torna torna il sereno torna questo questo arcobaleno quindi io credo che qui tu ti sia allontanato tu ti stia allontanato da una situazione che non va più e tu ti rechi verso la felicità verso la chiarezza verso il sole quindi un qualcosa di molto bello verso la serenità qui guarda ci può essere un qualche cosa sicuramente un incontro un incontro a casa quindi qui posso vedere un familiare un amore un caro amico che si reca da te che si reca da te quindi proprio un incontro in casa in un albergo un incontro passionale emotivo sicuramente ma anche perché no qui si può trattare anche dell'incontro molto emozionante con un figlio con un figlio un fratello una sorella capisci che ti voglio dire due persone che si amano ecco due persone che si amano che comunque hanno un feeling un bound un legame molto 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 forte qui ci possono essere anche dei denari in arrivo ma anche qui fanno vedere dei lavori che magari tu devi fare in casa alla tua casa quindi un qualcosa no che tu devi smuovere tu devi fare ci sono incontri sicuramente incontri anche con amici perché qui vedo diverse persone ci vedo anche che i locali quindi un divertimento un'uscita eccetera di un certo tipo e guarda il 3 di coppe con il 7 di bastoni qui c'è un festeggiamento quindi tu potresti festeggiare veramente un qualche cosa fare una festa una festa per aver ritrovato diciamo così questa questa persona perché qui le carte mi parlano anche di pace di ritrovata serenità poi guarda qui la coppia voglio dire io questo 2 di coppe è meraviglioso e poi mi fanno vedere la felicità quindi qui ci può essere veramente una persona che o non sentivamo per un motivo X o che era lontano per un altro motivo X perché qui posso vedere anche una lontananza un viaggio capito qualcuno che arriva da noi che arriva a casa nostra o comunque una persona di casa nostra capito qui ci sono anche dei denari che arrivano dei denari che arrivano quindi una novità anche lavorativa molto molto favorevole anche a questo si va incontro ecco io non so perché questa paura sinceramente perché stona parecchio in tutto sto ben di Dio ma in cuor tuo c'è questo timore c'è questo non essere insomma troppo tranquillo ecco ma qui c'è un qualcosa che tu fai anche proprio in famiglia cioè con altre persone con persone di famiglia se non sono di famiglia è come se lo fossero sai quando si dice sì ero con questi amici sono come di famiglia ecco con persone con cui c'è un legame molto molto forte magari anche da tanto tempo non credo che qui si parli di nuove conoscenze capito quindi momenti felici sicuramente momenti che ti aiuteranno a superare questo impasse che è dentro la tua testa qui c'è un timore di un qualche tipo però qui sembrerebbe che tutto si vada poi a risolvere durante la settimana capito quarzo rosa guardiamo un po' ora anche gli altri mazzetti magari trovi uno spunto in più per te anche negli altri due va bene andiamo vediamo la settimana dell'ametista partiamo subito andiamo a vedere iniziamo dai miei oracoli questi sono proprio miei nel senso che come vedi li ho creati io se vuoi avere questo mazzo di carte trovi le info giù nella descrizione di questo video oppure le puoi chiedere a me mandandomi una mail a le carte di pennello per chiocciola gmail punto com oracoli volume 1 va bene ametista come trascorrerà la settimana l'ametista settimana dal 6 al 12 giugno 2022 qui mezzo marzo ok settimana 6-12 giugno per l'ametista accidenti questa voleva proprio un viaggio non so se l'hai già improntato se ci hai già pensato se lo stai per fare insomma qui parlano di viaggio sono abbastanza chiara e volata proprio in modo molto molto decisa sta carta allora per l'ametista il viaggio la ricchezza questa carta parla appunto di ricchezza ma mi parla anche di un uomo io l'ho voluto rappresentare con una cravatta è anche abbastanza apparecente cioè si percepisce che qui c'è un'abbondanza dietro ok quindi la ricchezza ma anche una figura maschile vediamo allora per l'ametista settimana dal 6 al 12 giugno 2022 per l'ametista e qui ne sono cadute due vedi i segreti e il pudore che sono carte insomma diciamo se la dicono molto no parlano di riservatezza guarda sotto il mazzo la felicità quindi qui tutto è bene quel che finisce bene nel senso che insomma le carte sono chiare mi parlano di un'emozione felice un'emozione felice segreti e pudore ma allora qui mi fanno vedere sicuramente un viaggio e l'abbiamo visto un viaggio che ti farà piacere fare ora io voglio dire che tu lo faccia in questa settimana anche se è possibile è probabile per carità magari tu lo prepari in questa settimana va bene comunque qui un viaggio me lo fanno vedere un viaggio uno spostamento magari proprio in compagnia di questo signore o magari se tu sei uomo tu sei proprio te comunque in compagnia di di qualcuno voglio soltanto chiedere c'è la felicità una cosa per l'ametista vedi ma fammi vedere poi ci sono ancora i tarocchi vediamo anche con loro la costruzione l'indipendenza no sa perché mi senti un po' così perché vorrei con queste carte che ci sia sia un viaggio che però un vorrei si slittasse per un motivo x o magari come ti ho detto un tu lo fai proprio questa settimana ma tu lo organizzi soltanto comunque poco tarocchi sarà svelato l'arcano capito diciamo che c'è questo viaggio in ballo capito con un'altra persona quindi non te da solo o da sola e vediamo perché la felicità c'è quindi non mi viene di certo da pensare a un bidone tutt'altro ma guarda potrebbe anche essere un viaggio che potreste decidere di fare o te tu potresti decidere di fare senza far tanta pubblicità senza dirlo tanto a destra e manca capito che ti voglio dire ecco vediamo la settimana della metista dal 6 al 12 giugno come la trascorreranno quelli della metista come trascorre prendiamo solo quello sopra 1 e 2 sono curioso e chiudo fuori vedi dal mio mondo le persone e i pensieri negative eccola là quindi qui veramente potresti essere te lì con con le cuffie ad ascoltarti la 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 musica e la curiosità quindi qui c'è una notizia che te ti aspetti perché se no non si spiega la curiosità io credo che qui te tu stia aspettando un qualche cosa infatti ci sono i segreti e i pudori quindi o che tu aspetti la mossa di questa persona per un qualche motivo x o che sia semplicemente un qualcosa riguardo questo viaggio che ancora è un tussai ma andiamo a vedere perché poi con i tarocchi insomma ci faranno chiarezza fatto è che qui c'è in ballo sia una coppia che non è detto sia solo affettiva una coppia di qualsiasi tipo e un viaggio però insomma quella felicità farebbe ben farebbe ben sperare perché sono emozioni insomma sicuramente positive andiamo a vedere dal 6 al 12 giugno per l'amethista come trascorreranno la settimana queste persone amethista dal 6 al 12 giugno 2022 ok il 4 di denari 4 di denari il 10 di denari il 10 di denari che belle tutte e due carte a denari 4 di denari 10 di denari la settimana dal 6 al 12 giugno per l'amethista vedi la papessa la papessa settimana 6 al 12 giugno ho visto ok il 4 di coppe tiriamone un'altra eccola là vedi vedi il fante di denari che è uscito rovesciato vediamo vediamo nel taglio l'asso di denari ok bene 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 ma guarda qui ce n'è una calda una fredda nel senso qui tu mi devi aiutare se tu mi devi dire che l'è questa cosa perché te lo dico io ho vedi esattamente io qui ho un qualcosa di nuovo e un qualcosa che potrebbe andare a monte va bene andare a monte ora ti spiego meglio qui c'è qualcuno che non la racconta giusta quindi magari aveva ragione gli oracoli ci hanno sempre ragione e c'entra però mi rimarcano diciamo questa situazione oppure mi parlano di un'altra situazione proprio non so se mi spiego mi spiego meglio o c'è un viaggio o comunque un'impresa un qualcosa che tu devi o tu avresti dovuto fare insieme ad un'altra persona o c'è un qualcosa che viene fatta in gran segreto per un motivo X tu lo saprà te perché tu devi farla in segreto senza di nulla a nessuno perché uno dei due è sposato o perché che ne so io tu lo vuoi far sapere oppure qui c'è qualcosa cioè fra di voi fra te e quest'altra persona che un bub ve la raccontate giusta perché qui vedo segreti ma a questo punto qui sono proprio segreti c'è un qualcosa che non ti viene detto non ti viene raccontato fino a un fondo che sia per pudore che sia per motivo X qui c'è un qualcuno che non la racconta giusta quindi un qualcuno che mente in altre parole perché qui c'è anche il ladro ma il ladro nel senso per l'amor di Dio voglio dire ecco però insomma fai attenzione capito fanno vedere guarda potrebbe essere anche semplicemente che qualcuno ti viene a leggere il cellulare di nascosto capisci che ti voglio dire qualcuno che cerca di carpire i tuoi segreti perché qui io ti vedo anche una persona molto riservata una persona come dicono qui indipendente che si fa i cavoli propri ecco insomma gli altri non sempre se li fanno quindi magari fai attenzione se tu lasci il telefono o altre cose insomma capito cioè un po' questo quindi qui fanno vedere questo però c'è anche una novità che mi fanno vedere molto positiva qui sicuramente ci sono dei denari che arrivano una notizia molto favorevole riguardo la casa o comunque la famiglia ok quindi dei soldini che arrivano o una somma di denaro ma anche una una notizia positiva riguardo il denaro capisci che ti voglio dire perché fanno vedere qui anche un discreto successo lavorativo quindi magari una notizia positiva favorevole sul lavoro un aumento di stipendio il boss che si congratula con voi però sta attenta o attento perché c'è qualcuno non voglio dire sia questo uomo o questa donna ma siccome me lo fanno vedere un motivo ce l'avranno queste povere triste qui mi fanno vedere qualcuno che è un po' doppio cioè ti fa il buon viso e ti fa un po' peggio invece da un'altra parte capisci quindi qui c'è un qualcuno una persona o più di una per l'amor di dio qui mi fanno vedere un po' la situazione capito che fa un pochino il doppio gioco un pochino altalenato comunque secondo me te io credo tu ti sia già accorto o accorta o tu te ne accorgerai proprio durante questa settimana grazie a queste carte c'è un qualcuno che non ti sconfinfererà più di tanto ecco se così fosse fidati del tuo intuito perché qui di intuito ce n'è da vendere fidati del tuo intuito perché questa persona potrebbe essere un ti voglio dirne anche per cattiveria magari una persona insicura lei di suo fatto sta come si dice l'ignoranza fa più danni della cattiveria almeno questa è la mia personale convinzione è più pericoloso un ignorante che si muove che un cattivo perché insomma un cattivo tu te ne guardi bene un ignorante un tu lo sa mi cervello non gli va quindi attenzione perché qui mi fanno vedere una persona che potrebbe fare un po' il doppio gioco con te durante questa settimana quindi fidati giusto non credo riesca a farti danno eh che riesca a farti dei danni però magari ecco si potrebbe proporre qualcosa fare delle lusinghe eh ma te insomma un ti ero troppo un vinto ecco vedi il sette di denari guarda qui economicamente parlando wow c'è una settimana niente male ci sono dei movimenti di denaro ma c'è anche una situazione o una persona da cui tu ti potresti allontanare perché come ti stavo dicendo il tuo intuito non te la fa sconfinferare più di tanto quindi rifiuto di un'offerta non so come meglio dire di una proposta perché non ti non ti convince fammi sapere mi interessa sapere sono curioso spiegami sono curiosa spiegamo un pochino qui che ti hanno detto queste queste carte va bene amethista guardati anche gli altri due mazzetti io ve lo consiglio sempre mi raccomando magari tu becchi proprio un qualcosa che ti può essere utile per capire meglio questa va bene io vi ringrazio per avermi seguito fin qui ci vediamo naturalmente sempre qua al mio prossimo video ok ciao alla prossima eccoci qua vi lascio ai miei no